Vi racconto di quella volta in cui giocai con i miei amici per la prima volta a Minecraft Era tipo il quarto giorno dal server Minecraft, quindi eravamo tutti felici, era d'estate, era bellissimo E uno dei nostri amici rimane la notte a giocare Il giorno dopo aveva fatto tutta la casa col mattoni di pietra bellissima E c'erano un sacco di mattoni di pietra Fino a quando uno di noi spacca per sbaglio un blocco della casa e spawna un silverfish Continuiamo a spaccare i blocchi della casa e continuano a spawnare i silverfish Il coglione aveva cittato per prendersi i blocchi dalla creative Ma aveva sbagliato e si era preso il mattone di pietra col silverfish dentro Quindi aveva un'intera casa fatta di silverfish dentro i mattoni Non avete idea dei litigi che ci sono stati per questa cosa E il server è stato chiuso quel giorno perché nessuno voleva più giocarci E il server è stato chiuso quel giorno